buongiorno questo è uno screen che proviene dalle mie storie instagram dove si vedono i personaggi che presumibilmente o almeno che io credo saranno confermati nel vabbè come ultimi combattenti vabbè allora waluigi ma anche se molto improbabile crash togodino o sora ma è che avevo detto perché nel video di ieri che io l'ho registrato prima egman jonesy di fortnite muscle chief doom guy e freddy fazbear ora se è uno di questi sappiate che io l'avevo detto ora siamo qui in live con 134.805 persone aspettiamo aspettiamo sono il 47 tra i 13 minuti poi tipo si scopre il tipo di funky friday se c'è il tipo di funky friday contatelo come se l'ho previsto ok sono il 51 mancano 9 minuti e spero vivamente non sia un personaggio sconosciuto che conoscono solo loro sono il 56 mancano 4 minuti e vi spiego adesso perché non sarà waluigi o almeno è molto improbabile poi sicuro sarà l'uimo che lo sto dicendo tanto che cambia le pile al controllo allora 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 si cioè è già nel gioco come trofeo assistente non possono toglierlo e metterlo come personaggio poi come potrebbero spiegarlo a livello di law ma sono io waluigi mi ho deciso di diventare mi lavavo di tutto chef le pile non vanno allora 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 Grazie a tutti Ok Il controllo del ricarico Il controllo del ricarico Eccomi, eccomi, eccomi L'abbiamo messo in pausa Sono 59 Tutti pronti? Tutti pronti? Ok Ok Ok, ok Eccomi, eccomi Eccomi, eccomi Eccomi, eccomi Vabbè, prima ci mostra i costumi per i Mii Ovviamente tra quelli che ho previsto Conta anche se ne sono Vabbè Pai, questi sono qui da pagamento Vediamo, vediamo Mii Fighters Dai, riconosciamo Seals Seals Round 11 Ah, è quella che... Ok Quella di Splatoon Ci sta Ok Ci sta Beh, ci sta Come Mii Ok Ok Che cos'è adesso? Vabbè Qualcosa Che cos'è? Uh, che 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 che? L'avevo detto! 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 E siamo a uno giusto ragazzi Mi avevo già... E già uno l'ho indovinato E già uno l'ho indovinato L'avevo detto! No, l'avevo detto! Chi avrebbe mai pensato a Doomguy? Io! Io ci avevo pensato! Io lo sapevo! Abbiamo lasciato impazzita sicuro! E anche l'ho indovinato! Oh no! Sì! 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 Lo sapevo! Anche l'ultimo convertente! Nishimbi! D18! Va bene! 3 anni e mezzo sono passati dal primo trailer. E infatti abbiamo continuato a svilupparlo, quindi se include questi progetti potresti finire l'elementare lungo tempo. Non posso riscrivere le cose, non abbiamo fatto nessun successo. Ah beh, qua sta facendo tutto il discorso, e mo chi esce, chi esce? Questo è l'ultimo. Ecco l'ultimo, lasciate che io vi presenti, è l'ultimo combattente. Guardate, chi è, chi è? Ok. Che? No. Che cosa? Tutti quanti? Ah, si riprende dal trailer iniziale. Che succede ora? Chi è. Andiamo iniziale! E noi questa。 Io e sto facendo l'aere, i delirà nell'e por qui, amspendolo. Sì, sveglia. Sì, sveglia. E qui cosa vede. Foka. Scompare la piattaforma. Kisera. Alcuna che c'è un tragotto foka. Oh, che fai. Che ha fatto? Lo sapevo! Topolino! Aspetta, è Topolino o Sora? Aspetta. O è Topolino o è Sora? Ma comunque io l'avevo detto. Fermi, fermi. Fermi tutti. Ok, è Sora. Ah. Due su due. Ne ho indovinati due. Fermi, ne ho indovinati due. Fermi, ne ho indovinati due. Ah. Goto. Goto. Quanto so sapevo, ne ho indovinati due. Due, due. Due, due, due. Due, 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 due. Due, 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 due. Let's go. Ah, ci devo farlo da l'ultima. Guarda finalmente qui. Cosa? No, le cose. Anche io lo so faremo. Sora, Nagin, 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 Nagin. Il suo nome è lo stesso. Eh, ovviamente. Sora significa il cielo. E' una piccola spiegazione. Va bene. Prima è, da un'altra parte. Lasciatevi presentarmi. Vabbè. 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 Quanto lo sapevo. Eccolo. 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 Il tuo motore è apparso nel direct. Lo sapevo. Che cos'è ora? Ah, ci vuoi vedere il suo moveset. Eccolo. Finalmente qui. Non il tizio da destra. Ah, quello sulla sinistra. Tizio da destra. Vabbè. Lo sappiamo che è quello adesso. Eh, penso sia il più richiesto. Il più richiesto. Sei anni fa? Abbiamo fatto. C'era una... Oh! Hanno avuto il sondaggio di sei anni prima. Hanno avuto il sondaggio di sei anni prima. Hanno avuto il sondaggio di sei anni prima. Più voluti c'era. Non possiamo rivelare il risultato. Ah, vabbè. Siamo finalmente riusciti a connettere a questi risultati. Eccolo. Eccolo. ... Vi faccio vedere le mosse. E' il pacchetto unici, ora finisce la battaglia. Questa è ancora in sviluppo, quindi useremo la versione di sviluppo, vabbè. Allora, questa è scritta l'idea. Un'esmash, 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 un'esmash. Minion Foul DLC, il nostro combatente DLC, ma... Contrini e soli sono molto normali. Allora, salta molto anche. Eeeh, quanto salti! Flutto anche. La sua debolezza e l'altezza. E' più leggero che l'abbè, addirittura. E' più facilmente essere lanciato. Vabbè, scegliete la prima, che è leggerissima da quanto salta. La sua prima colorazione è basata alla sua cara. Vabbè, sono... La sua raccliccia e i capelli cambiano. In quel caso, ecco, i vari colore. Il del 2, poi ci sarà quello del 3. Del 3D va bene. DDD. Del 3. Del 3D. Ah no, 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 no. Sono le varie pose. D'olivo. Quando lo sapevo io. Io ho raggedonso questi costumi, let's see. Sono riusciti ad includere quattro. Vabbè. Cambiano ancora dal giocatore 5 in poi. La forma va allora. Wisdom. Ultimate. E chi è il giocatore di 5? Doi. No. 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 Potrei guardare tutti i personaggi. Per capire tutti i personaggi. Beh ci vedete. Mossa normale. Vabbè. Vengono dal gioco. Vabbè questo è l'altro. Che. Qui. Vabbè. Premiare... Ehm... Inclinare il premio... Ehm... Ehm... Kirpi... Kirpi... Sola? Com'è finne Kirpi Sola? Ehm... Ci deve essere... Un Kirpi formatora... Ci deve essere... Forza... C'è quel... No quello... Il Kirpi Minecraft era il migliore... Con tutto un cubo... Non è che importante... No... Si... Si infine... Ma non è che cosa è vero... Ma non è vero... Ehm... Ma che cosa è vero? Chi... Il Grifo è vero... Ehm... Il Grifo è vero... Ma che cosa? Sì... Si... D'accordo... Non si... Mi... Meglio posso anche non dire tutti i bersagli, ma può spostare la gente, bene, però non può lanciare, cioè non può prendere e lanciare, non può lanciare solo, vabbè avete capito, ecco le mosse, le altre mosse, ok, 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 Mario ha lanciato in questo caso di fuoco, per evocarlo Dunque io l'avevo previsto, da quelli, l'avevo già detto nel video di ieri, barna, di stamattina, per stamattina intendo per me che l'ho necessata Mi sarei neanche aspettato, sapete cosa, Spongebob, perché oggi è uscito Super Smash, Nickelodeon, no, come sia, ah, Nickelodeon All Star Brawl Questa cosa è il diluvio Ti lascio molto rapido, ma un attacco di largo, ma un attacco, va bene Io lo conto come topolino per smasher, dappiare, da L'altro, cosido L'altro, cosido Ancora, L'altro, cosido Sì, c'è un po' più facile. Ci sta facendo vedere praticamente tutti gli attacchi proprio alla venga. Tutte le quali le combinazioni sono facili di tutti i personaggi. Ci sta, ci sta. Comunque, oh, ne ho indovinati due. Quindi è già molto. È già molto che ne ho indovinati due. Peccato che freddi fa sbira, non c'erano le cose. Però... Era un po' ovvio ormai che se dovrebbe stato sopra si sapevano se c'erano le cose. C'era quello là che diceva di lavorare per Disney Music. Beh, che avevano chiamati per i diritti su... Vabbè... Wario... Uiui... Io... Beh... Qua ci avete tutti... Tutti quanti... Tutti quanti... Tutti quanti... Tutti... Tutti quanti... Tutti quanti... E ora le mostre speciali. Qua ci diventiamo. Qua ci diventiamo. Qua ci diventiamo. Poi poi ti esce. Qua la magia la vuoi usare. Ogni volta che viene usato può cambiare. Si sblocca tipo quel vexpo. Eh... Con squiltor non so quanto ti conviene usare. Fu... Sblocca tipo xd quindi si attacchi ne droppa solo 3 ha un gran drag d'azione però di meno lo salto vabbè vedete se si sa puoi anche farlo così per saltare 30 km ok 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 che non danno più di un gel c'è anche l'attacco per scongelare anche questa è ripresa può essere specchiata anche se l'assorbita 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 ... ... ... ... ... ... ... Ah, c'è un po' di più. Ah no, cambia! Ok, cambia solo la grafica. Sonic Lave... Sonic Lave... Kingdom Hearts is Sonic. Yo, that's the Mickey Mouse guy. Yo, what's the Michael... The Michael Mouse dude with Sonic the... Sonic the... Vabbè. Andiamo a vedere. Sono da 25 minuti? Stiamo da 25 minuti. Un avimento è simile a quello di Greninja. Vabbè, sì, un po'. Ma sono molto diversi. Peccato per Luigi. Che lui... Avrebbe un problema, ma ovviamente Inzapeva non lo avrebbero messo. Se lo avrebbero dovrebbero mettere, lo metterebbero in un altro gioco. Che se c'è già altro... E' già come il trofeo. Assistente. Il numero 2. Loro è qualcosa... Inizio. Vabbè. Vabbè. Cambiamo la costume. Ah... Occhia. E fare danno continuo mentre andremo, così. è simile allo spin attack di King addirittura puoi anche muoverti leggermente a destra ecco il consiglio più importante è che tutti gli usi si sapete side special after using ah ok ah se usi il side dopo aver fatto questo cambi subito nooo e questo è questo è la svolta per esempio down attack su down attack su 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 Ecco e questo è tutto per le mosse, tutti combattenti nel gioco dovrebbero aver fatto un'apparizione. Buon lavoro, buon lavoro a tutti. Chi è questi tutti? Guarda il Finals Mansion. No, non ce lo dicono. Mi pensate il nome? The Keyhole. Oh no, sealing the keyhole. Cioè, invocando il buco della keyhole, vabbè una cosa del genere. Ecco, lo stage. Mmm. Ci sta. Mmm. Sì. Dirittura. Ah, si muove lo sfondo. Bene. Cioè, non si muove lo sfondo, si muove la retona. Ma tu c'è il giro intorno? Mi viene arrivato in giro. Sta perdendo pezzi. Ci dice. No, non ci stai. Ok. Ok. E' il parla su trega? What happens now? Oh ok. Ma messi. Non si vuoi? Il parla su trega? Ci sono molti personaggi. Faccio vedere. Scusate che vediamo il Togo Maledetto C'è il Togo Maledetto Dov'è? Eh, ci deve essere Meno nello sfondo Scusate che c'è il titolo Mi piace Scusate che sono Il Giaudetto Scusate che c'è il titolo C'è il titolo C'è il titolo D'acqu'è il titolo che non è mai uscito quindi non è mai uscito ma è un'estima ma è un'estima non è così non è un'estima ma è un'estima ma è un'estima ma è un'estima ovvio per la che sarebbe decisare quanta poichè è che ci sarebbe stato un personaggio di Disney perchè c'era nello scorso Direct c'era quella che non c'entra niente perchè era il trailer di un gioco però però ah come l'ho indovinata ma ti è già stati ieri a Game Theory questa va nella cartella dei giochi previsti da MDS mo sicuro non sta registrando sicuro non sta registrando me lo devo riregistrare e mi dicono eh ma l'hai già visto eh iya uya allora comunque la storia di instagram dove annunciava il personaggio l'avevo messa molto prima dopo farò anche un posto di sbrini di smash e quello del genere non so potremmo vedere non ci hai fatto vedere ancora il Kirby che su ora si attupo lì è tutto il momento per la final no عندino di aprire la pulsazione furcata due questo è quello inizio faccio il siamo se , è o no mi ha preso? vabbè qua non c'è bisogno di capire tutto il commentare ok mi sarei aspettato komikuna? il topo? canzoni, parliamo delle canzoni, scherzo molto le canzoni vengono già originate non ci sono salite mix ah no se avete il gioco vi sbloccherà una canzone in più vabbè c'è un delizewan ok ok capito l'ho usato per la victorian ma addirittura hanno chiamato il compositorio l'incitato questa è la fine di smash voglio ringraziare tutti e i fan sono molto contenti della musica che cos'è? ah ok sono tutti gli alleati va bene ma le 6 giapponesi hanno lo stesso nome quindi abbiamo adesso una parentesi il scherzo del 18 ottobre lo riceverai se avete già il pass ok steve adesso nello stesso macchetto abbiamo anche delle informazioni su di amico non ce l'ho qui con me ma quella di steve è uscita nel 2022 molto steve molto steve ok c'è anche alex e zombie questo è molto alex questo va bene qui anche questo è un'uscita va bene ma mi sa ne ho aspettato steve nel ma non si è più la sola ah le mani sono c'è una specie va bene ma c'è una specie di giocare ah sono compatibile ah sono compatibili ah ah playstation 4 vabbè una rossa vabbè oh il cane maligno eccolo eccolo il maligno proprio lui in persona in persona in persona ho trovato tutti i giochi ma la data è la data dei giochi ma è la data dei giochi eccolo eccolo vedete vedete ci sono tutte no fermi manca waluigi dov'è finalmente finalmente every one is in the that's really it è davvero la fine è se posso spingere tutto il giorno ogni giorno non che non non spettivi raggiunti, non mi piace l'informazione del gioco, stage, item 201, 40 cast of traffic, più di 1000 canzoni, 450 giochi davvero, più di 1200, e beh 147 di fighter, giusto, il gioco gioco, giusto, 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 giusto. Di quanto è 90 bilioni, serebbe i miliardi in italiano, i milioni, i bilioni sono i miliardi, ne so? Non lo so. Per questo stai dicendo ogni gioco ha la sua sviluppatura,ari, noi siamo riusciti a rinirlo il più possibile, qui, bla 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 bla, se c'è una stessa cosa qua, beh grazie, qua ringrazia il team, tutti quelli che hanno giocato, l'ho fatto, va bene, grazie, e arrivederci, l'ho detto, lasciate il video, e vi lascerò la versione completa del trailer, grazie a tutti, ce lo lascia adesso o nel senso lo pubblica, no, non ho capito, finita? no, ah, ok, ok, ce lo fa vedere, ecco, si incrandisce, poi torna indietro, si torna qua, l'abbiamo già vista, sta scesso da 40 minuti a leggere stare, che si spegne e cade una goccia di fuoco, qua si vedono i vari amici, vabbè, finché è un punto, non si sveglia, non si risveglia, ecco, sarà addormentato, qua si sveglia, e chi vede il fuoco, e qui, ah, chiappa, chiappa, andiamo, andiamo, e qui, inizia ad andare, cammina, 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 su quanto fa a screenare sul screenare il capino non l'avevo fatto che fare? fa prendere il fuoco e decidere di lanciarlo eccola qua devo farla proprio da tratto maledico qua la chiave si risvegliano tutte e viene risucchiata e inizia a fluttuare non si sa per via di cosa let's go finalmente qui poi inizia a fluttuare vabbè numero 89 o numero 90 mi ricordo 89 personaggio 90 riguarda una cosa di prima quel 2200 giochi credo si riferisse anche tutto tutto i i mi fai credo va bene siamo rimasti altre 422 2.512.000 persone Corri, corre Perché? Corri, corre Eh, infatti non ce l'avevi fatto E non ce lo fa vedere Quello è un buro che chiamo Stovo maledico Mamma mia, di questo Ci occupiamo oggi Ok GG È finito? È ufficialmente la fine? Is this the end? GG Vedete? Eh, niente Quale Cosa? Era ovvio Però non ci sarebbe stata Qua dice Era ovvio Palesemente Ovvio Purse avrei dovuto Vedere in italiano Che forse era meglio Vabbè Non c'è più nulla da vedere Quindi Andiamo qua Vediamo se in quella In italiano Qualcuno ha scritto qualcosa Ma la chat Ma la chat Ancora non c'è Non hanno messo La chat Vabbè Signore Sarò amore Vabbè Non c'è più nulla da vedere